E ho giocato... come vedi oggi? Anch'io? È strano, eh? Vero? Un bot. Ma si fa scopo da riepi. Oh, ma chi... ma manca una persona. No, no, arriva, arriva. Sta arrivando? Eh, lo so, raga. Regalo un pass. Ci siamo! Gabri, ma stasera magari ranchiamo un po'. Ci stai? Non so, domani... Siete tutti da PS? Da Switch e da PS? Sì, da PS. Io avevo una bella... Io ho iniziato da due mesi a Tm... tre mesi ora. Ma... Sai cosa? Io domani portavo un tricchettino per avere la mira un po' più bella. Però è solo da PC. Eh, è da PC. Ma forse puoi anche tu scaricarlo. Anche voi potete. Non lo so. Provate domani. Guardate il video, provate perché è utile. Non è hacking, non è niente. Buona sera. Ciao belli. Parliamo tutti? Sì. Ottimo. Arrivano tutti i miei codici creatore, Samuele1998? Grandi. Già lo sai. E da quanto mi seguite, ragazzoli? Io, ma... Da un mese io. Cioè, da un mese fa, la due. Ok. Io vorrei fare il tuo propino. Tutto bene. Anche io un mese, se non mi sbaglio. Ottimo, ottimo. Dai che se la vinciamo, se nemmeno partita la portiamo a un canale YouTube, eh? Io potete vederla tutto. Io l'ho già vinta una partita con te ora, quindi speriamo di portarla a casa Marta. Grande, grande. Eh, ma come si vincono solo, eh? Ragazzuoli, siete troppo forti. Ma io abbiamo fatto due partite, quindi... Cosa? No, no, non so. No, una per due. Cosa ne so io? Campo di battaglia. Non andiamo qua, non andiamo qua, non andiamo qua. Aspetta, aspetta. Montolimpo? Va bene. Vediamo, se moriamo allo start, ne facciamo un'altra. Se no, vediamo così. Ah, non lo faccio. Io vorrei rancare un po' dopo, ragazzi, in realtà. Vorrei iniziare un po' a rancare, perché... Io sono a flaccio ora. Voglio arrivare a real. Non è una bronzionata, perché non gioco molto a ranker. La scorsa season era a champion. Io voglio arrivare a real. Raga, stiamo sulle prime case. Non andiamo avanti. Uno da me. Vai tranquilli, vai tranquilli. Ancora un altro. Io ne ho due, dai. Buono. Prendetevi le arvi, raga. Ci sparano da... Cinque. Raga, mi serve un po' di cure. Da sta qua. Prossima settimana, raga. Bravi, bravi ragazzi. Prossima settimana ci sarà. Grazie bello. E cosa si può vincere? Una skin, magari, di nuovo. All pass. Vediamo in base... A un po' di richieste. Io vi dico sempre, guardate i video, perché... Lascio sempre scegliere il più possibile a voi. Bene, vai. Venite. Sì, ma io ti ho lasciato per la linea. Voi, io ho venito un po' tutti. Aspettate le secondi, per un secondo. Aspettate. Ma voi due li conoscete? Cioè, user... Io... Io tiravo quando la voglio scuola insieme. Ah. No, non mi piace. Dai, lo devo... Lo voglio provare a usare se... Cioè... Arrivano. Tu invece, bello. Dove? Ringa. Noi hanno arrivato a sto... Ma hai cambiato a... Moto, moto, moto. Settantatrécento. Moto. Aiuto. Dove cavolo sta? Sopra il tetto? Ah, non ho materiale. Non ho materiale. Lì sopra. Non ho materiale. Non posso fare niente, regà. Albert. Riesce a toccarmi? Occhio dietro! Ma che pezzo di... Ciao, GG! Senza materiale. Bravo. Oh, mi lagga, mi lagga, mi lagga, ragazzi. Finicelo se ce la fai. Io adesso giriamo. Ok? Ok? Questa? Oh, più rosca... Oh, più rosca... Ah, merito, bende. Oh, oh, però, 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 però c'è gente qua sopra, vieni qua, vieni qua. C'è Matt, c'è Matt, c'è Matt, c'è Matt. Gioco con gli iscritti, GG, sì. Dove, dove, dove? Cosa va qua? E' proprio illegale sta cosa. Infatti, è troppo, giuro. Troppo. Io vabbè, a restare siamo... Eh, sì, andiamo qua, andiamo qua da 80 metri. Grazie, belli. Due e tre. Il boss comunque Zeus è più, cioè, rinasce due volte, è impossibile, giuro. Sì, infatti, ma pure con questi qua, forti, è proprio impossibile. Perché ce la portiamo a casa. Ciao, Greta! Ciao, Greta! Per cosa, per cosa? E' emozionato, è emozionato. Perché giocate con me? Ma non sono mica ciccogamer o power, eh? Ma non sono famosa. Però grazie, bello. Io vi dico solo una cosa, raga. Io ho un colpo pompa. Ti faccio un regalo, prenditi. Tu sai qual è il regalo che preferisco, io? Vediamo chi lo sa, chi mi conosce. Perché io. Bravo. Ar, ne avete qualcosa? Una trentina. 28. No, 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 scusate, scusate, scusate. Ar, volevo dire. Ar. Allora, non c'è manco io. Allora, vincenzo. Vincenzo, ok. Vincenzo, ho fatto sin me di... Guarda, non c'è n'altro. Oh, parliamo di Zeus? Dai, prego. Oh, bello. Andiamo ad Zeus, che non mi ricordo. Ma tu ti... Ti puoi che ha un tettino? Oh, no, no, no. Il medaglione cosa ti fa? Perché ti dà DMR, questo lo so. Oh, io l'ho preso, venite. Arriviamo, arriviamo. Ma non si può toccare a lui? No, 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 no. Ora sì, quando andranno anche altri bot. E lei va a porto tra... Eh, partiamo la tre. Ma... Crocio a me, dimite io. Ma non tutti morto qua, che... Mi sarà bravo. Vai! Ma ragazzi, questo bot ce la c'è a poter sapo qui. Vai! Comandate dagli ommeno, qui si può. Eh, io l'arma, io l'arma. Ma ragazzi, ma ragazzi! Cuore la vita, cuore la vita, cuore la vita, cuore la vita! Cuore la vita, cuore la vita! Chiari, Chiari, chiari! Noooo, me lo son fatto io. Ma che cazzo! Eh, ragazzi, cuore la vita per favore, che tu lo faccio muoio. No no, 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 sono tutti uguali, pervenire. La safe stop leggermente... ...on altra parte il mondo. Eh, vincenzo mi sta per la live. Muori, mi fa. Mi sa che moriamo tutti qua, eh. Siamo tutti vicini a lui, stiamo tutti vicino a lui che lo restiamo, regà. Vai avanti, vai avanti però. Facciamo così con tutti, eh? Sì, infatti, perché è sempre vicini. Non è veloce la safe, è lentissima, regà. Eh sì, però sta un pochino leggermente lontano. Fai arrivare anche lui, aspetta che muore tra poco. Vi sono in safe. Ok, pure io. Tutti in safe? Ottimo, ottimo. Dai che ci siamo, ciao Mirka, ciao Capri. Io c'ho un battaglio di Zeus, se qualcuno lo vuole... Vince, tieni. Vai, vieni. Uno, uno l'ho tirato giusto, l'altro lo... Oh, fin da casa, ci tieni per sbagliare. Oh, c'è macchina. Andiamo a pushare, no, non si è messo male. Dopo questa, dopo questa, ragazzi. Ho solo un'altezza. Oh, ragazzi, c'è il bunker, c'è il bunker, c'è il bunker, venite, venite. Qual è il bunker, però? Io non so, non conosco niente. C'è il bunker, c'è il bunker, c'è il bunker. È là il bunker, ragazzi, faccio il sette torni viola. Ragazzi, stanno sparando di fuori. Andiamo, andiamo. Vieni, c'è un attimo, portatevi un attimo. Nemici di fronte, ragazzi, vi trovate nemici di fronte, ho 23 colpi a R. Ok, sto volendo, sto volendo. 23, 500. Dammi. Scendetemi te. Ok. Oh, zipline. Eccomi. Regalà. Dove zipline, dove zipline? Qua, qua, qua. Ma stanno scendendo, stanno... Dove cazzo stanno? Qua, qua, qua. Eh, lì, 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 lì. Dai, lì, 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 lì. No! Eh, lì, 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 lì. Zitti, zitti, state tranquilli. Vieni qua. Ci sono sempre venuti a far me. Zitto. Non ho più mazzo Non ho più materiale Troppamelo Troppo mazzo Troppo mazzo Oh Gio Quanto sei forte Troppo Altra scheda Tutte Mi serve solo cura e arrivo Oh c'è ci sono un pulco Ma sei velocissimo Tipi No va bene Deve non essere fatto va bene È velocissimo realmente Spettacolo Eh sì Vorrò di andare a sinistra Perché è lungo Visto? Visto? Ok Speriamo a vera Comunque siamo oggi come dei polli Eh vabbè ci stanno Anch'io stavo impanicando Un attimo Mamma mia ma non è male sta cosa in realtà Sam una domanda Quanto vi te l'hai fatto oggi? Eh penso già 5 o 6 E ho iniziato a giocare alle 2 ore Buono dai Ma comunque il record è sempre rimasto Quello la mio dell'altro film Sì Delle costrime più prima Oh Non sarà Non sarà Ok Dai Avete un po' di loot là sotto ragazzi Dove le uccisi Ok grazie Prego Dai che ce la portiamo a casetta Oh Dimmi Se trovo qualcosa di bello 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 sì Però attualmente mi sta piacendo solo fortuna Mi piace Se mi piace come cosa sì Ragazzi ma avete fottuto tutto Io ho una R in più eh ragazzi Tieni Raga pieno di loot qua però ci saranno anche nemici eh Vabbè Senza ci saranno Ragazzi se passate un attimo di qua Se passate di là c'è un po' di loot Fatti Io voglio un po' di loot Vabbè mi intanto a questa Ok Sì E' bruttissimo Antimamente la pubblica Questa shot ti lo tiene nemmeno un po' Come no ne uno in più io Tieni Anch'io 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 ne ho uno Due Raga Ti vuole Materiali Io lo so Sto di tutto Anch'io Prego Io bisogno di un assalto Non mi trovo Colpi di assalto? Vieni tu le doge la 500 Allora Ok Mi vuole un po' in blu oh Ti ne ho lasciato colpi tipo 50 colpi di tutto No Tra gli assalto e trovate lo croce Vabbè 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 ma quale 30.500 cop forse ho visto gente mentre guardavo la chat all'isola che è scesa o è salita mamma mia ma che occhi di falco medaglione davanti quante coppe ai 30.500 lo vedo un po difficile di cosa uno in ciò ha detto che a 30.500 no no grazie bello raga giochiamocela bene secondo me c'è gente qua io per ora non ne trovo sei solo come cavolo lo prendo sto rift niente i rifiuti qua sono imprendibili arrivo 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 buono bellina bellina sta partita interessante vai che ce la portiamo a casa non lo so ma siamo contro 6 scusami contro 2 lasciate un bel like ragazzuoli un bel follo per il vostro samo che mi fa vincere tutte le partite grazie a voi ragazzuoli dove stanno? no basta che non ti prendono una volta e niente partite a casa ragazzuoli ora fai ranked oppure gioca ancora con gli iscritti non lo so ragazzi che ora sono? 23 non lo so chi c'hai per giocare ragazzuoli? e ce l'ho già in server privati? non lo so io io se voglio allora aspetta questa la salviamo allora aspetta questa la salviamo allora aspetta 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 la salviamo